Ben trovate cari amiche e ben trovati cari amici con un nuovo appuntamento del podcast di Rubino Immobiliare News. Quest'oggi affrontiamo un tema abbastanza importante, perché scegliere un agente immobiliare? Di solito ci si chiede se investire ingaggiando un consulente sia un costo o un'opportunità. Oggi per rispondere a questa domanda abbiamo con noi il presidente del gruppo Rubino Immobiliare. Andrea Rubino, benvenuto, bentornato. Bentrovati, bentrovati. È una domanda intrigante e chiaramente mi verrebbe subito a rispondere che è strettamente necessario l'intervento di un agente immobiliare o meglio di un mediatore immobiliare, perché dobbiamo capire che cosa fa l'agente immobiliare, perché si hanno delle percezioni confuse o errate di quello che è la funzione dell'agente immobiliare che ricordiamo è un termine abbastanza nuovo, usato dagli anni 60, però l'attività che fa l'agente immobiliare è l'attività di mediazione immobiliare. La mediazione immobiliare è un'arte antica che proviene dai tempi dei romani, forse anche prima, quindi bisogna conoscere un po' quello che effettivamente faceva, farà l'agente immobiliare o meglio il mediatore immobiliare, perché l'agente immobiliare come agenzia immobiliare è il luogo dove il mediatore esercita la sua professione. Al di là di quello che dice la legge, che ovviamente seguiamo con il massimo rispetto, ci sono degli aspetti pratici, cioè quello che riguarda le competenze e le esperienze che servono per comprare e vendere casa e che non si possono acquisire da un giorno all'altro. che tipo di rischi va incontro chi pensa che possa vendere casa con due foto su Facebook, tanto per capirci? Bene, ho fatto una domanda che mi permette di rispondere in maniera molto chiara e netta. Per l'agente immobiliare, l'agente immobiliare è un professionista che deve abilitarsi e quindi avere dei requisiti minimi scolastici che oggi sono diploma media superiore o laurea, fare un corso preparatorio e fare gli esami alla Camera di Commercio, quindi innanzitutto occorre prepararsi e abilitarsi per fare l'agente immobiliare, quindi non è un'attività che si può improvvisare, oltre chiaramente a continuare ad aggiornarsi, non dico quotidianamente, però settimanalmente anche perché l'agente immobiliare deve conoscere oltre a quelle che sono tutte le competenze tecniche e relazionali, ma deve anche conoscere quello che è il mercato, il trend del mercato, quindi conoscere bene quello che è la domanda, l'offerta, ecco deve essere un professionista a 360 gradi e permettere anche di offrire una consulenza specifica su quel che sono gli investimenti immobiliari. Non è facile seguire il mercato immobiliare e diventarne un esperto, la realtà di Rubini Immobiliari ha 40 anni, quindi vanta anche un database storico che le consente di avere anche il polso della situazione e vengo ad uno degli errori principali che viene fatto da chi non si avvale di un consulente professionista, cioè la valutazione iniziale, quanto può influire sbagliare la valutazione iniziale di un immobile nella sua compravendita? Ebbene, la valutazione immobiliare è fondamentale, fare una valutazione corretta, giusta è un primo passo per poter poi affrontare la vendita immobiliare, io prendo anche alcuni esempi nell'ambito diciamo di qualsiasi lancio di prodotto che può essere un'automobile o può essere anche un programma televisivo. Alcune volte che cosa succede? Che per un'errata analisi di quelle che sono il trend, per esempio alcune trasmissioni televisive vengono eliminate dal palinsesto perché molto ovviamente non avevano fatto bene le analisi di quello che era il mercato, l'audience. La stessa cosa può essere capitata a alcune automobili, alcune automobili purtroppo non hanno avuto successo, non sono state ritirate sia dalla fabbricazione che dal commercio perché non rispondevano a quel programma. Quindi questi errori sono costati cari in questo caso alle case di produzione televisiva o anche alle case automobilistiche, quindi ho anche altri tipi di prodotto, ecco perché prima di lanciare un prodotto va fatto una ricerca di mercato per vedere se quel prodotto corrisponde a quelle che sono le esigenze del mercato. Ma la stessa cosa vale per quanto riguarda l'immobile, anche se dopo l'immobile in questo caso ha usato, perché noi stiamo parlando dell'usato, perché il nuovo ha altri tipi di dinamiche, ma l'usato è chiaro che anche lì se il proprietario che pensa di fare da sé prende dei dati sbagliati o comunque è sentito dire, come oggi si usa a vedere anche in Facebook o nei social, si fa consigliare dal cugino che moltemente è il tuttofare e che pensa di sapere tutto, dopodiché che succede? Che l'immobile viene o messo sul mercato un prezzo elevatissimo, quindi esce fuori di mercato, ma dopo esce fuori anche dall'interesse della clientela che lo deve comprare. E rimane vuoto, quindi perdendo tempo e danato. Rimane vuoto con tutti i rischi, ma anche perché dopo l'immobile che rimane lì sul mercato cade completamente di interesse e può stare lì anche 6, 7, un anno e dopodiché nel momento in cui il proprietario ha necessità di vendere o perché deve comprare un'altra casa oppure perché deve monetizzare per altri motivi, è chiaro che dopo il problema è che si fanno cose sballate e quindi dopo si va a svendere i mobili. Quindi la valutazione è molto importante. Va bene, grazie signor Andrea Rubino e alla prossima. Buonasera.